Musica Ciao a tutti ragazzi, sono io nel Chiri Benvenuti in questo nuovo video Oggi San Valentino Cosa fate di bello? Io lo passo con i miei micioni E sono felice e contento Ho comprato un po' di cioccolata per i cuori solitari E quindi dopo mi tuffo in questa bellezza di chiri Kinder Bueno, Barrette Caramello e Biscotto Questo cos'è di buono? Cioccolato e Arachidi Iniziamo subito col cioccolato e Arachidi Per non sentirci soli e abbandonati e dritti Noi single Questo è amore Questo è amore Incuriosito da quello che potrebbe fare oggi una coppia nel giorno più Felice per gli innamorati San Valentino Cupido Frecce, freccine, cuoricini Amore, love Amore, love Ho chiesto a un paio di amici Cosa fanno questa sera? Ho avuto delle risposte Abbastanza inquietanti diciamo Direi che noi single siamo meglio Intanto Mi mangio il Kinder Bueno Intanto ho iniziato a chiedere alla Martina Una mia cara amica Gli ho detto Marti che cosa fai oggi? Che è San Valentino Ma risposto Vomito e sto sul cesso Ottima risposta direi Allora non contento Ha scritto Lilaria Ma risposto Niente tesoro siamo tutti ammalati Io, mio marito e mio figlio Per cui stiamo a casa a mangiarci la zuppa Ma io non demordo Allora ho scritto un messaggio a Dennis Cosa mi ha risposto? Dennis sto male Ho mal di testa Ho mal di stomaco Adesso acceniamo E andiamo a letto Alle nove di sera Ok Ho tentato con l'ultima persona E difatti è stata l'unica A darmi un minimo di soddisfazione La Dapi Mi ha detto Guarda Non facciamo tardi Perché domani è un esame Però mangiamo qualcosina E beviamo una buona bottiglia di vino Oh Almeno questo Comunque ragazzi Questo è il San Valentino Più dolce della mia vita Amore c'è regalino Lo vuoi? Che domande Tini Mi buona c'è Valentino Anche te mi buona c'è Valentino Tini mi buona c'è Valentino Chi è che sta meglio di me? Questa sera per Cino Ho preso delle bistecchine buone Di pollo In modo che le posso mangiare Io Con i miei amicioni Ce le dividiamo Ce le spartiamo Ce le mangiamo Con gusto Felice e contenti Comunque ieri ragazzi Mi è arrivata una cosa Che avevo ordinato su Amazon Dopo vi lascio giù Il link in descrizione Finalmente mi è arrivata Ragazzi con molto orgoglio Vi presento La mia minicam E' una cosa incredibile Non avrei mai creduto Fosse piccola così Difatti quando l'ho aperta Mi aspettavo Una minicam Ma no questa minicam E' veramente piccolissima Vi faccio vedere Un esempio Con una micro SD Cioè E' qualcosa Di meraviglioso Non ancora avuto bene L'occasione Per provarla Ho fatto un video Velocissimo Così a casa Che adesso vi faccio vedere Comunque insomma Per quello che costa Diciamo che la qualità E' abbastanza buona Io l'ho pagata 6,99 euro ragazzi Comunque adesso Vi faccio vedere Il piccolo video Che ho girato in casa Così tanto per provarla E possiamo dire Che ho ricevuto anch'io Il mio regalo Di San Valentino Questa ragazzi E' la prova Della mia micro cam Direi piccolina Però diciamo che Come rapporto qualità prezzo Questa è l'immagine Diciamo che Per quello che costa Non è neanche male Giusto? Comunque ragazzi Se vi va Lasciate giù nei commenti Quello che farete oggi Se festeggiate Se non festeggiate Se siete innamorati Se siete single Se siete pensati Sposati Mariti Amanti Mogli Scrivete quello che volete Ragazzi Se questo piccolo video Di San Valentino Vi è piaciuto Spolliciamo sul like Se non l'avete fatto Iscrivetevi al mio canale Vi ringrazio E vi mando un bacione Alla prossima Ciao